ciao a tutti e ben trovati dal festival della cultura americana in questa serie di video conversazioni mettiamo piede qui e la attraverso la frontiera la attraversiamo in questa puntata abbiamo il piacere e il privilegio di parlarne con sarah ammenti che innanzitutto saluto ciao sarah buongiorno michele buongiorno sarah per i pochi che non ti conoscessero mi riferisco soprattutto tra coloro che frequentano il centro studi americani tu sei bibliotecaria e archivista storica della biblioteca del centro studi americani e con te abbiamo il chiaro proposito di rendere questa conversazione una vera e propria bibliografia parlante sulla frontiera ridotta nelle possibilità perché sappiamo che alcuni libri sono fisicamente in movimento appunto in una al di qua della frontiera sottratti alla fisica disponibilità eppure saranno tantissimi quelli di cui andremo a parlare dato il poco tempo a disposizione perché come tu stessa mi insegni il tema della frontiera è un po ovunque all'interno della letteratura americana dunque come dei pionieri eccoci qua iniziamo a te a te darci il primo consiglio di lettura sì dunque michele non non ti nego che mi ha un po spaventata a compilare questa bibliografia parlante perché proprio come dicevi tu il concetto di frontiera nella letteratura nord americana è praticamente uno dei temi chiave intorno al quale ruota non diciamo assolutamente tutta ma grande parte della letteratura degli Stati Uniti chiaramente nel corso del tempo questo concetto si è andato ampliando e diversificando partendo appunto dalla dalla prima espansione verso ovest quindi dal diciassettesimo fino poi al ventesimo secolo quindi nuovi insediamenti conquiste di nuovi territori tutte le problematiche relative a questo che si riflettono nella letteratura naturalmente e quindi anche le problematiche relative ai nativi americani e poi fino ad arrivare ad oggi e e quindi ai problemi con le frontiere ad esempio con nuovi confini come il problema del del confine con il messico ora io ho cercato michele di di raggruppare alcuni libri ci limitiamo alla narrativa perché perché se dovessimo affrontare anche il tema della saggistica staremmo qui per giorni e giorni e quindi ecco vi do vi do degli spunti di lettura naturalmente sono soltanto alcuni però partirei dal principio quindi partiamo dal primissimo periodo il periodo delle conquiste dell'espansione verso ovest verso il famoso west il primo libro che vi farò vedere è forse conosciutissimo questa volta più per la trasposizione cinematografica magari che per il romanzo sto parlando del romanzo di uno dei padri della letteratura nordamericana ovvero james pennymore cooper forse molti di voi hanno già indovinato che è l'ultimo dei moicani romanzo del 1826 noi qui peraltro l'abbiamo in questa bellissima edizione michele che anche parzialmente illustrata non so se si riesce a vedere che cosa racconta questo romanzo racconta le vicende che sono legate alla guerra franco indiana ovvero il teatro nord americano della famosa guerra dei sette anni quindi ci sono raccontate le avventure più che altro le disavventure di due popolazioni di nativi con gli eserciti sia inglese che francese la storia la conosciamo un po tutti per via appunto del famoso film però ho pensato sai che magari le nuove generazioni che non hanno visto il film come noi più e più volte possono recuperare questa bellissima storia attraverso la lettura del romanzo andiamo avanti sarò veloce perché ne ho tanti da farvi vedere il secondo libro che vi propongo siamo sempre nell'ottocento ma questa volta alla fine 1872 è di un altro autore molto noto che è mark twain ora twain è conosciutissimo per molti dei suoi romanzi ma forse in pochi hanno letto questo libricino qui che è raufing it in italiano si trova con il titolo in cerca di guai credo quindi 1872 che cosa racconta questo romanzo questo breve libretto ci racconta la storia di twain la vera storia di twain quando nel 1861 lui parte al seguito del fratello orion che è nominato segretario del territorio del nevada e farà una diligenza di 21 giorni verso il nevada appunto attraverso paesaggi stupefacenti abitati da pistoleri mormoni pony express nativi americani avrà delle disavventure terribili soffrirà anche la famosa febbre dell'argento si getterà per un anno nella vita del cercatore e addirittura diventerà milionario per una settimana tutto questo è raccontato in queste poche pagine che vi consiglio di recuperare mark twain è uno dei principali simboli tra l'altro della letteratura americana anche in un periodo dove diventa critico il rapporto con gli studi culturali con quello che riteniamo il più o meno politicamente corretto tanto che di recente è stato pubblicato sempre da everett autore da cui è tratta american fiction vincitore del premio oscar james la storia di l'ami di a colberry quindi visto in controluce e in contrario e poi tornando un momento su i moicani non intendo farti commento su tutti i libri perché sono tanti e non avremo il tempo però c'è un punto molto caratterizzante della trasposizione dell'ultimo dei moicani che è proprio la la colonna sonora eh iconica se pensiamo al tema di jones ed edelman e poi quello dello scossese daghi mclean che è de goel no che è il tema eh più noto e questo lo lo dico solo perché in musica non fino ad arrivare alla musica assoluta ma intanto in musica un elemento di frontiera fondativa è proprio il rapporto tra il silenzio e il suono si potrebbe dire come in letteratura tra la pagina bianca e la parola vedi un gare di là e di qua alle sponde dell'oceano prego motivo in più per recuperare anche il film perché ancora non l'avesse visto perché è veramente un cult eh vado avanti vado avanti con la prima donna che incontriamo in questo nostro percorso eh non sarà certo l'unica a raccontare il west però villa Cater andava assolutamente eh menzionata io qui ne ho uno ma in realtà molti dei suoi romanzi insomma sono rilevanti da questo punto di vista questo è Pionieri del 1913 eh a me piace moltissimo Villa Cater e in particolare questo romanzo perché ci dà un'altra prospettiva ehm qui racconta la storia dei Bergson che è una famiglia di immigrati svedesi che vive tutta la sua vita nelle praterie sconfinate del Nebraska la particolarità di questo romanzo ma anche di altri di questa scrittrice è che la protagonista è una donna Alexandra che è una donna veramente forte determinata una figura centrale questa giovane donna eredita eh il terreno del padre e vivrà tutta la sua vita per insomma dare frutto a questa terra intorno alla storia di Alexandra si snodano poi le vite di lente di tutte le altre persone che abitano eh in questa condizione quindi assolutamente da recuperare eh questo diciamo è per quanto riguarda l'ottocento la fine dell'ottocento e gli inizi del novecento arrivati agli anni cinquanta quindi diciamo più o meno alla alla metà del secolo parte partono i grandi classici della letteratura cosiddetta western io qua ve ne propongo alcuni ehm il primo di cui voglio parlare purtroppo non ce l'ho fisicamente ma è veramente facile da reperire è il grande cielo di eh A.B. Guthrie è eh il primo di una serie di romanzi lui ne scriverà poi in tutto sei ehm che tratta l'Oregon Trail ovvero una di quelle strade appunto che si percorrevano per per andare verso ovest e in particolare lo sviluppo del Montana dal 1830 in poi ehm è molto bello il grande cielo per vari motivi sia per la prosa che straordinaria vi catapulterà in questi territori selvaggi e bellissimi sia per il fatto che non è il solito western perché ehm qui Guthrie fa un'operazione diversa è quasi un romanzo di formazione il protagonista è questo ragazzo Booney che è originario del Kentucky lui sta scappando da una situazione di violenza familiare e eh quindi va verso ovest alla scoperta eh di nuovi territori non in cerca di fortuna come è accaduto finora e quindi di denaro di stabilità economica ma in cerca di libertà quindi eh è molto importante questo romanzo anche perché il termine frontiera che finora magari era stato visto come insediamento è ora eh anche eh libertà appunto quindi ricerca di di sé eh e di un nuovo modo di vivere. Eh il secondo è eh Lance and Dove di Larry McMurtry ed è un romanzo del 1985 quindi una decina di anni dopo e Lance and Dove è un libro leggendario eh voi direte ma sono tutti belli quelli che che ci stai consigliando? Sì li ho scelti proprio perché assolutamente ve li ve li consiglio proprio come letture. Lance and Dove è il vero classico eh romanzo della letteratura western racconta in particolare l'odissea di questi due ehm rangers del Texas siamo diciamo pochi anni dopo la fine della guerra civile eh loro si lasciano convincere da un compagno di avventure a migrare verso eh di nuovo il Montana. Quindi cosa fanno? Radunano una mandria di eh bisonti e eh andranno alla scoperta di questi nuovi territori fonderanno il mh primo ranch oltre lo Yellowstone quindi assolutamente natura selvaggia sconfinata eh e avventure western con la W maiuscola. Non non ti sento? Su pionieri e sul grande cielo non che arrivi a scoppio ritardato ma è che voglio veramente diratare molto eh i miei interventi all'interno di questa biografia parlante emerge quell'aspetto legato a noi stessi alla visione del mondo che abbiamo della frontiera perché pionieri in fondo ce l'ha nell'etimo e il piede il pedone l'avanzare e pensiamo sempre al di là e al di qua dell'oceano atlantico George Steiner o Steiner a seconda che dir si voglia eh come un continente possa essere più o meno il frutto delle possibilità del piede umano quindi questo essere pedoni questo essere pionieri è legato alla possibilità e poi lo avevi detto prima l'insediamento il territorio eh il confine la mappa rispondono a prese d'atto del creato sono dei modi che abbiamo di vedere il mondo o di cercare il nostro posto nel mondo quindi ecco la la ricerca sì assolutamente e e questo si vede ancora di più nel libro di Gatre appunto di cercare un posto dove sentirsi liberi comincia è mh comincia ad essere diciamo così importante anche il legame eh dell'uomo con la natura che nella letteratura americana è veramente di rilievo e e da non sottovalutare soprattutto anche forse nella letteratura eh di frontiera eh bellissimo anche da questo punto di vista è la serie di racconti forse più nota di eh Annie Proulx io non so se l'abbiate letti questi racconti se non l'avete fatto eh recuperateli ehm si chiamano Wyoming Stories sono dei racconti scritti alla fine degli anni novanta eh ci sono in tre volumi tra l'altro sono editi anche in Italia quindi facilmente recuperabili eh viene descritto un desolato paesaggio rurale del Wyoming appunto quindi cambiamo un pochino ambientazione e eh ci ricordano un po' le Badlands di di Bruce Pristine per tornare alla alla musica Michele eh sono molto noti questi racconti anche perché ehm c'è all'interno la storia di dal quale dalla quale è stata tratta il film Brokeback Mountain quindi eh forse molti di voi appunto conoscono quel racconto lì per il film meraviglioso che ne è stato tratto ma vi assicuro che all'interno di questa raccolta in tre volumi ce ne sono altrettanti veramente belli e e da recuperare eh gli ultimi due di questa prima parte di carrellata di libri che volevo proporvi sono voci in realtà di nativi americani perché finora li abbiamo visti raccontati dagli altri ma credo sia assolutamente importante eh sentire anche la loro di voce e ehm il primo è un libro che purtroppo non ho qui ma è di Tommy Orange vanno bene tutti di Tommy Orange quello che vi propongo oggi è non qui non altrove l'ho scelto perché a differenza degli altri è una storia corale che parte in realtà dallo spunto del raduno che viene fatto ogni anno a Oakland in California in cui ehm gli indiani d'America di tutti gli Stati Uniti si si radunano eh questo incontro non è solo un incontro di di folklore non ci sono solo perline o piume in testa eh ma mh Tommy Orange ci racconta attraverso l'incontro di di tutte queste persone le storie eh dei nativi e di come loro appunto non riescano poi a sentirsi veramente a casa in nessun posto. neanche ora quindi è davvero importante e l'altro romanzo è di Lewis Hendrick forse questo è più noto perché ha vinto anche il premio Pulitzer di recente ed è il guardiano notturno eh del 2020 e questo romanzo qui è sulla vita eh l'identità culturale gli amori le lotte sociali di una piccola comunità di indiani della riserva del Tartal Mountain eh in Nord Dakota a metà degli anni cinquanta che viene minacciata da un disegno di legge che eh vorrebbe smantellare le riserve quindi eh in quello che gli indiani considerano l'atto finale dell'estinzione del loro popolo quindi assolutamente bello da leggere ma anche importante da recuperare per il messaggio e e per i contenuti che io passerei a una seconda parte di bibliografia parlante come l'hai chiamata tu che è quella che riguarda più da vicino la frontiera con il Messico perché finora abbiamo visto libri che ci parlano un po' dell'espansione ad ovest ma c'è tutta una parte di letteratura di frontiera che invece eh ci parla delle della barriera insomma eh frontiera con il Messico la prima citazione che faccio non li ho qui ma insomma non serve neanche presentarlo è la trilogia della frontiera di Corman McCarthy ehm scritta nel 1990 è una un'opera letteraria che è composta da tre romanzi i romanzi sono Cavalli Selvaggi oltre il confine e città della pianura eh raccoa incentrata intorno alle avventure di due giovani cowboy eh non vi aspettate sconti da McCarthy eh chi lo ha già letto e chi lo conosce sa eh che cosa aspettarsi chi non lo conosce eh deve assolutamente sapere che McCarthy eh non ci racconta favole non fa sconti al lettore è un un racconto molto crudo molto veritiero ehm su quello che poi veramente eh accadeva a questi uomini e in quelle situazioni quindi posso leggerti proprio da della frontiera e proprio da Cavalli Selvaggi un passaggio che penso sia eh centrale per raccontare oltre McCarthy l'idea della frontiera del molto volentieri lo spirito eh dovendo fare spoiler potremmo dire che questo è un po' come Madeleine di Proust cioè questo che sto per leggere si legge all'inizio quindi c'è tanto altro e c'è soprattutto molto altro andando avanti ma lì eh leggo proprio la frontiera e se me lo permetti te lo te lo leggo per mi fa piacere perché noi ce l'hanno portato via McCarthy ora quindi assolutamente sì lui a un certo punto scrive un popolo e il suo spirito che attraversano in coro sommesso quindi pensa di nuovo qui il suono la parola il silenzio quello che dicevi prima una storia corale cosa attraversano il deserto pietroso quindi c'è questa aridità eppure c'è questa grande vivacità che ormai tutti quanti sappiamo attribuire al deserto non come luogo di eh in animazione ma come luogo estremamente animato sia pure a livello di eh piccoli ecosistemi piccoli o grandi ecosistemi questo deserto pietroso porta verso una oscurità perduta alla storia e ogni ricordo è come un graal scrive e questo graal per McCarthy contiene la somma delle loro vite ecco qui di nuovo il McCarthy che come dici tu non fa sconti che sono vite violente ed effimere qui c'è tutta la frontiera e se poi lo vogliamo leggere sempre in cavalli selvaggi rispetto a quella non scontatezza a priori della frontiera del nostro essere umani i due quindi sono John Grady e Rawlins si scambiano questa battuta Rawlins dice a John Grady come prevedevano che eh si possa andare a cavallo in questo paese perché dice come come facevano a pensare che e e e Grady risponde semplicemente non lo prevedevano affatto quindi c'è questa eh impredicibilità imprevedibilità di fondo che di nuovo richiama la libertà all'idea stessa dell'essere umano sì esatto la libertà e anche come hai citato prima la violenza perché eh McCarthy assolutamente ci ehm ci presenta la verità nuda e cruda quindi non solo il bello dei paesaggi selvaggi ehm allora ehm quello che che vi farò vedere ora invece è di un altro genere e ci racconta un altro lato di questa di questa avventura sto parlando dei libri di Don Wieslow ehm che rientrano in questo tema qui perché ci parlano del di tutto il problema del narcotraffico eh con tra Messico e Stati Uniti dagli anni settanta fino agli anni duemila e lo fa eh con tre poderosi romanzi che fanno parte della trilogia del confine il primo è Il potere del cane ehm da cui è stato tratto anche qui un un celebre film poi c'è Il cartello e Il confine lui occupa uno spazio molto particolare perché proprio tra la narrativa di genere e l'analisi storico sociale quindi eh rimarrete molto affascinati da queste pagine che sono davvero avvincenti ma allo stesso tempo ehm fanno un'analisi appunto storico sociale interessante eh su questa problematica qui eh l'ultimo che ho pensato di farvi vedere che riguarda il il Messico è ehm purtroppo sì non ce l'ho è l'archivio dei bambini prodotti del Lost Children Archive di eh Valeria Luiselli. Lei è una scrittrice eh messicana e il suo romanzo come molti sanno in parte ispirato alla politica diciamo adottata eh dall'amministrazione Trump nel duemiladiciotto e in base alla quale in caso di tentativo di ingresso eh illegale negli Stati Uniti eh i bambini venivano separati dai loro genitori. Quindi lei prende spunto da questo da questo contesto e ci racconta un viaggio in macchina sostanzialmente di una famiglia quindi padre e madre e due figli che si eh avvicinano vanno verso la regiona per motivi di lavoro e eh si trovano a a raccontarci questa situazione terribile. Eh un romanzo veramente molto bello molto molto toccante Michele. Eh diciamo la lista ufficiale è finita qui ma io ho preparato dei fuori lista perché non ero soddisfatta. Beh il fuori menu in questa bibliografia parlante ci sta tutto tra l'altro pensavo eh e probabilmente è è fra le righe di quando riacquisti quel e conquisti quel rapporto tra uomo e natura o lo metti in crisi lo metti in discussione c'è un altro grande americano che segna il gotico americano che è Edgar Allan Poe e che si porta nella frontiera dell'umano e di quella introspezione che per noi era simboleggiata da altro da un'aristocrazia decaduta di là invece la natura selvaggia e e al contempo sarà nel rapporto con la colonia sarà il rapporto con i nativi americani sarà comunque un senso di colpa che è dentro la storia profonda dell'America che sviluppa questo tormento del protagonista di Edgar Allan Poe in ogni caso che eh apre a un immaginario letteralmente a un immaginario che influenza tanta letteratura a seguire. Se tu mi vuoi portare fuori strada con Edgar Allan Poe io apro le le porte del mio cuore e sto qui a parlarne per giorni e giorni però hai ragione hai ragione non possiamo affrontare questo tema anche diciamo così ehm a livello metaforico ma è chiaro che il termine frontiera nella letteratura non si riferisce soltanto alle barriere eh fisiche quindi c'è tutta questa tematica qui e poi apre la strada a un'indagine sulla sulla psiche che è straordinaria ehm sulla parte più oscura di noi stessi. In realtà i fuori lista che ho preparato io sono. Torniamo al tuo menù torniamo al tuo menù non volevo. No 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 ma a me fa piacere tantissimo fare digressioni letterarie quindi quando vuoi interrompimi quando vuoi con queste suggestioni. Eh no io semplicemente volevo portare all'attenzione dei lettori eh due libri che in realtà ci parlano di un territorio di cui non abbiamo parlato fino ad ora che è l'Alaska eh e quindi la eh la conquista di questo territorio eh veramente mh aspro e selvaggio. Eh sono due romanzi molto belli. Uno è del duemiladiciassette e l'altro è recentissimo perché duemilaventiquattro. Quello del diciassette è di Hernan Diaz ed è eh in the distance che in italiano è tradotto il falco. Eh Hernan Diaz è più conosciuto per il suo romanzo Trust che ha vinto il Pulitzer credo proprio nel nel duemilaventitré eh e qui racconta la storia di un ehm di un ragazzo un giovane ragazzo che per raggiungere il fratello attraverserà eh gli Stati Uniti fino ad arrivare all'Alaska eh ed è chiama considerato il gigante divenuto leggenda il Falco The Hawk. L'altro romanzo è centocinquanta acri di Melinda Mustakis molto bello questo addirittura di quest'anno Michele eh ed è affascinante perché ci presenta due coniugi diciamo così che si conoscono in una fredda notte in Alaska e decidono di sposarsi senza praticamente neanche conoscersi eh hanno questi centocinquanta acri da mh coltivare e dedicheranno la loro vita alla conoscenza di questo territorio veramente aspro e alla conoscenza di se stessi faranno i conti con loro e con la solitudine di un luogo così impervio. L'ultimo prometto l'ultimo è non potevo non citarlo è furore di Steinbeck voi direte perché furore di Steinbeck perché in tutta questa carrellata non abbiamo parlato di un altro fenomeno eh questo è un libro del 1939 e e ci parla naturalmente dell'odissea della famiglia eh Gioad che negli anni trenta viene eh sfrattata dalla loro casa perché eh in seguito alla grande depressione negli anni trenta quei territori vennero molto sfruttati a livello proprio agricolo per cui tantissime persone furono costrette a migrare verso ovest e verso la California eh e qui Steinbeck fa un'opera meravigliosa eh che va assolutamente letta in tutti gli anni anche se non parliamo di frontiera comunque leggetelo lo stesso ehm niente tutto qui eh ve ne presenterei molti altri ma purtroppo non abbiamo il tempo però insomma mi ha fatto piacere lasciarvi questi questi pochi consigli Sara tu sei di casa al centro studi americani e sei tra le più autorevoli ospiti della biblioteca e io ti sono particolarmente grato perché attraverso il tema della frontiera uno ci hai fatto capire come la biblioteca stessa del centro studi americani diciamo una tra le più importanti senza altro la più importante in Italia per gli American studies possa farci viaggiare il paese in lungo e in largo eh lungo eh le frontiere dell'est dell'ovest del nord e del sud e poi come da premessa questo viaggio attraverso l'America è un viaggio attraverso noi stessi perché di nuovo quel mettere il piede oltre la frontiera è sempre varcare una soglia eh trovare un nome nuovo dare un nome nuovo alle cose e quindi per definizione eh domesticare il nostro stesso rapporto col mondo domesticare noi stessi nel mondo in piena libertà chiaramente Sara Ammenti grazie ancora una volta per questa passeggiata di frontiera attraverso la cultura americana a tutti coloro che ci seguono a presto grazie Michele arrivederci